Musica Non male Cortina a fune racconta il soggiorno di una turista nella Perla delle Dolomiti il risveglio in hotel, lo shopping, le escursioni in montagna, gli eventi e molto altro ancora Musica Buongiorno, ciao, sono Katia Piacere Simone, sono l'autoguida per oggi per questa avventura Ah, perfetto, ok, mi hai già preparato la bicicletta Questa è la tua bici, è pronta per essere usata Allora partiamo da qui, da Socrepes, giusto? Esatto, partenza a Socrepes, abbiamo tre impianti fino ad arrivare al Duca d'Aosta a 2100 metri 16 chilometri di sentieri, tutta a tua disposizione Perfetto, allora metto il casco e saliamo Musica In questa puntata Katia, la protagonista, decide di andare al Bike Park in Tofana dove affronterà diversi pendii in bicicletta accompagnata da Simone, guida esperta Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.